Hanno reso omaggio a Santa Lucia gli allievi della scuola di danza New Latin Academy di Mattia Diamantini e quelle di progetto danza di Alice Vegliò, che insieme alla Proloco di Fano, Fanum Fortuna e hanno organizzato in centro storico un evento per celebrare la ricorrenza della martire cristiana, protettrice della vista e simbolo della luce. A suon di musica hanno percorso la via principale, Corso Matteotti, dando vita a originali coreografie fino ad arrivare in piazza a 20 settembre per l'esibizione finale con decine di candele. I lumi erano posizionati sotto l'albero artistico realizzato da Paolo del Signore e Stefano Seri. Alto 12 metri e tempestato di LED, dopo tante critiche e polemiche scatenate sui social, si è trasformato in una vera e propria attrazione per fanesi e turisti. A far da cornicio il mercatino natalizio, un evento suggestivo che è stato il culmine di un pomeriggio ricco di iniziative. A cominciare da un lungo corteo di fedeli partito dalla Basilica di San Paterniano fino alla Cattedrale per l'apertura della Porta Santa in occasione del Giubileo della Misericordia. Lungo il corso invece a farla da padrone è stata la mostra Mercato dell'Antiquariato insieme al mercatino dei collezionisti. In tanti poi hanno ammirato la mostra allestita nella Sala San Michele a fianco dell'Arco d'Augusto dove fino al 20 novembre prossimo rimarranno esposti oltre 60 disegni realizzati da uomini e donne richiedenti asilo ospitati nelle tre strutture di Fano. Nella pinacoteca del Palazzo Malatistiano invece fino a domenica 31 gennaio sarà possibile ammirare l'isposizione di sei angeli legnei dorati che escono dai depositi museali e che con molta probabilità facevano parte del pregiato corrito della chiesa di San Pietro in Valle. Immancabili le novità al presepe di San Marco di Don Marco Polverari allestito nelle cantine di Palazzo Fabri in via Mura Sangallo. Con tre nuovi diorami, 350 metri quadrati e 200 dipinti decorativi, dopo l'apertura eccezionale per le visite guidate che ha registrato nel fine settimana circa 1100 presenze, aprirà ufficialmente al pubblico il giorno di Natale fino al 6 gennaio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Insomma, il successo delle iniziative natalizie è stato assicurato grazie alla partecipazione di tutte le realtà cittadine e il Natale più di Proloco, Comune, Confcommercio e Confesercenti sembra aver fatto centro.